Si è tenuto a Palazzo Lascaris un incontro con il Master in Governance and Management dei mercati pubblici per lo sviluppo sostenibile della Turing School of Development. Ospitati 22 professionisti in materia di bilancio e appalti pubblici, provenienti da 10 paesi dell'Africa francofona e dei Caraibi. L'incontro si è svolto nel quadro dell'accordo di collaborazione tra il centro di Torino dell'ILO e il Consiglio regionale per far conoscere la realtà e le eccellenze del Piemonte.